Collega imprenditore, fermati un attimo, ho una domanda per te. Hai mai fatto sconti per vendere i tuoi prodotti e servizi quando sapevi benissimo che non avresti dovuto farlo? Hai mai inviato preventivi con la speranza di vendere i tuoi prodotti e servizi ma poi il cliente è sparito nel nulla? Hai mai procacciato clienti chiamando a freddo senza risultati quando sai benissimo che invece dovrebbero essere loro a inseguire te per risolvere il loro problema? Beh, se è così io ti capisco, perché sono anch'io un imprenditore e anch'io sono rimasto scioccato quando un nostro miglior alleato è diventato improvvisamente il nostro peggior nemico. La vendita tradizionale si è trasformata dal nostro miglior alleato nel business al nostro peggior nemico, causando sconti preventivi a vuoto e chiamate a freddo che ci hanno esaurito e distolto l'attenzione dalla nostra missione professionale. Tuttavia, esiste già oggi una soluzione pratica e veloce ai danni causati dalla vendita tradizionale. Questa soluzione si chiama Closing ed è un'abilità commerciale superiore alla vendita tradizionale che ti permette di dire addio al fare sconti ogni giorno, inviare preventivi a vuoto e al procacciare clienti senza risultati. Se vuoi scoprire come ho applicato il Closing alla mia attività passando dalle difficoltà a fatturati multimilionari oppure come ho aiutato centinaia di imprenditori o professionisti magari come te a superare ogni problema relativo alla vendita ho preparato una presentazione pratica e semplice a cui puoi accedere cliccando qui sotto. Accedi adesso a questa presentazione, clicca il link qui sotto e scegli la data e l'orario che preferisci e ci vediamo in sala per risolvere oggi i problemi causati dalla vendita tradizionale e portare la tua attività a livello successivo. Ti aspetto! Grazie! 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 Grazie!